Ragazzi, ecco mia cugina, quella che studia arte Ciao Studia arte? Sei mai stata alla galleria d'arte moderna? No Ci porto io Ci vediamo qui Ma come fa Leo a sapere sempre tutto? Per le persone disabili è facile essere informate, con superabile e-mail Da oggi c'è il numero verde 800 810 810 Ma gli altri si sono persi? Stiamo in o... Bella musta Sì, dei polli Sì, dei polli